Ai giovani del Medio Oriente io vorrei di nuovo ripetere che la Chiesa li ama. Aspetta che loro rinnovino la loro speranza in Gesù, malgrado tutte le tragedie che hanno subito, l'incubo che è accaduto sulle nostre comunità ecclesiali, cristiane, sia in Iraq, Siria e altre regioni del Medio Oriente. Cerchiamo di nuovo a dare la speranza nel futuro a tutti i giovani nostri. È vero che non è facile che loro facciano ritorno presto in Siria a causa della guerra che sta ancora in varie parti del paese. Ma cerchiamo di far capire loro che noi siamo i testimoni di Gesù anche in questi tempi difficilissimi.